ok ciao ragazzi e benvenuti in questo video siamo qua nella mappa ehi ti preoccupare nella mappa shroom nelle bedwars no non tu non non distruggerele no tanto ma sei bella sei bella distruggerele qua da solo che succede non puoi allora nelle bedwars siamo qua con Pepp questa volta dopo Ale e e Shown si ma chi è che fa sto casino in sottofondo spiegate come cazzo si gioca devi praticamente prendere il bronzo e tradeare poi c'è bronzo ferro e l'oro c'è anche al centro credo si l'oro c'è ah no c'è anche qui l'oro no cazzata mi sa che il centro non c'è si c'è perfetto c'è o no? vabbè non lo so si c'è stiamo spiegando a Peppe perchè lui non ha mai giocato però vabbè sostanzialmente bisogna fare così bisogna prendere blocks portate i miei landstone e coprire il letto perchè bisogna devi Peppe fai così guarda che tu non prendi tutto il bronze che puoi vai sui blocchi e fai handstone e prendi l'handstone e poi devi andare sul letto e coprirlo praticamente ci devi fare uno strato non c'è la bella si però ora portatemi i blocchi di senso anche devo andare sul letto e non l'ossidiana non c'è non c'è l'ossidiana ah eeeh ora te li porto Ale allora anzitutto prendiamoci un armato dai vado e Ale un attimo io non è che posso dare oh io voglio quelli diamanti si dai ed me ne sarei una ventina ti porto ma poi vedi che me li facevo solo cristo un membro inutile un po' di ferro arriva un dai ho due gold tra l'altro te la stai facendo? sto prendendo l'elzo ok fai bene tieni una chestplate per te mettila ok ho coperto eh si copri più possibile adesso mi prendo una spada boh io ho preso lo stick con te a colpo si no vabbè oh tu continua a mettere l'handstone qua cioè bisogna proprio riempire questa stanza di handstone più possibile perché tanto il bronzo è in abbondanza in questa qua si può abusare di handstone eh ce l'avete un pezzo di uno di oro tieni ne ho due ok eh no me ne serve uno piuttosto dammi un po' di bronzo che mi serve cibo lo prendo ancora a tutti morite io prendo io prendo arco e freccia bastardi ok l'arco e le frecce hanno infiniti quindi voi io direi che buttiamo giù i blu perché se riesco a buttare giù i blu cazzo ale mi sa che ci conviene fare il coso del ponte no com'è lasciamo i bordi i bordi falli fare a peppe chiedi nudo peppe fai tipo i bordi del ponte prendi la handstone e fai i bordi per non cadere eh cazzo mi sa che questo invece no arrivo io la provvidenza divina dammi del cibo si è anche al centro c'è l'oro tu sei al tecnico che fai i promessi sposi io faccio promessi sposi eh no faccio la divina commedia io poi non sono al tecnico sono all'economico tecnico ah beh quel che cazzo è no non faccio promessi sposi ci fanno cadere comunque sto facendo cadere le stonte no no vai ale vai prendi oh gold altro gold gold ancora ecco no cazzo niente abbiamo provato a lasciare nella base dei blu ma non siamo stati abbastanza bravi i red hanno il letto morto il letto morto a che punto sei con i blocchi eh minchia così pochi peppe stai facendo i bordi ah giusto bravo dove sta facendo peppe a caso oh sto facendo i bordini tu che sei il più nudo di me ah si sta facendo i bordini comunque ho raccolto 5 di ore allo spawn e alla bravo oh arriva uno arriva uno arriva uno chi c'ha una spada oh io c'ho solo lo stick con il contatto guardalo che sega si vabbè il livello qua di di pvp è abbastanza basso quel livello di di bravura nel pvp di arena craft no arena craft sono delle vette che non si raggiungono mai in arena oh facciamo la leader challenge io l'ho fatta niente ma dai cosa ci vuole cazzo ma non ci vuole niente cioè ma io la ho trovato degli hacker che sono talmente handicappati che non riescono a capire come c'è no ma c'è ma sono proprio stupidi eh oh ragazzi si oh arriva uno oh arriva uno ehi bastardo cosa puoi fare siii con la handstone si oh bastardo eh più handstone ci serve io ho più handstone serve è sempre quel nab scusatemi io copro con l'handson perchè qua c'era quello col piccone di ferro che c'ha quasi di sotto il letto e wow ma che cazzo ce l'ho della mia интер10 voi guardami qua mi butto perchè ti butti o guardate che ho fatto sì ma non aveva niente per Jan cdp contribui in essas nati Ok metto un po' della handstone Allora tieni questo Io sto giocando solo con lo stick No vabbè fatti una spada Lo stick c'era solo coso Solo knockback Aspetta Stai facendo la spada oppure di serve? Sto prendendo quella in oro potenziato Ah ok No perchè quella in oro normale la distraguo sub Si esatto L'ho presa anch'io quella in oro potenziato Ora faccio l'arco C'ha detto che intanto sta frecciando Da su lo vedo Se aspetto l'arco con 7 Aspetto l'arco con 7 Cosa ho fatto? Ho buttato un arco veramente Ma allo spawn si può farmare il gold? Si Ci sono 4 spawn di oro Dite che posso andare a rarciare l'oro Si si vai Ok tenite questo Grazie l'oro Madonna Mi serve una freccia poi Ti copro con l'arco Ma perchè? Che fastidio sto fatto Aspetta Spastati Dai piccone Eh però aspetta Questa mi sa che la carico Cioè io non Oh cazzo ho fatto Sanderson Dovevo fare Enzo Eh vabbè Eh è un problema Da dove? Questo mi sta aprendo C'ho i bordini qua Scusa prendi questo Vengo io Buon Boh Mi interessa solo lui Cazzo Vabbè però stanno le defense Diffici Che io vuoi Sinceramente vuoi prendere solo Solo lui E sinceramente non me ne hai fatto un cazzo Io sono messo piuttosto bene adesso Eh servono Mi serve un piccone C'è quello C'è quello di ferro per rushare come piccone Che è quello più Più migliore Allora qua Ok l'ho buttato giù L'ho buttato giù Posso Ho preso 4 di ore Ho preso 4 di ore Buono torno Ok vai Posso Oh 4 di ore Ok Ok Ponte ponente Ponte ponente Così Eh chi è che mi freccia Volevi Che cancro stavo lì Oh Madonna No 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 Fermi 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 Non dobbiamo farci Prendere Dammi bronzo Non mi terra Devo prendere un po' di Di armor Invece Ah tanto si possono fare anche gli iron block Sì Eh Però vabbè Eh insomma Eh Chi ho ora Io ho due Passa Ah tra l'altro i red Sono tutti eliminati Quagli iron block Non puoi Crattare il ferro poi Eh Eh Oddio Eh quanto costa però l'iron block Scusa No non puoi No Non puoi il red È disabilitato Eh minchia Sennò Costa Scusa Un iron block costa 3 di ferro Cos'è Ti fanno Ti fanno fare No Cazzo Palle Oh allora Facciamo così Corazziamoci un po' bene Che andiamo a rushare da qualcuno Dai che Me Me la sento potente Oddio Che cancro è questa Me la sento Tra l'altro Posso farmi una Chestplate Un po' più decente Io ho quella al massimo Sì anch'io Tieni Ale Ti do No no La spada Ritemi la spada Eh adesso mi servirebbe la spada No tieni ce n'è una io Una brutta Dai brutta Stiamo Lasciamo in tre Oh se Eh Aspetta il piccone Il piccone Il piccone Il piccone Ce l'avete? No Io ce l'ho Io ce l'ho Eh Ah no io non ce l'ho Checchio Microphone muted Vai Microphone activated Quello di ferro Si va bene Eh è quello migliore Quello di ferro Se ok lasciamo in tre Vai Ah però non cibo Cazzo Ah Sì anch'io ce l'ho Dai Dai Ah in centro mi sa che non c'è nessuno Infatti Aspetta 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 un attimo Ale Torniamo un pochino indietro Dov'è che andiamo però Dai Dai Allora Io proporrei Oh 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 Il team Il team giallo Non c'è qui il letto Allora Io devo andare a prendere i drop Dei Dei gialli No Dei rossi Che tanto non ci stanno in base Sono morti Si è vero Siamo solo noi blu eh Vabbè ora Vacci tu noi difendiamo il centro Minchia 22 di oro Buono Possiamo farci O di quanto spona allora Fatti la potion of strength Fatti la potion of strength Che così andiamo a lasciare Dai veramente Stringata Stringata Costa 10 Allora 10 di che? Di oro Mi sa che puoi farti sia la potion of strength Sia la La Eh vedi che Ci sta venendo conto E noi lo buttiamo giù Si è ritardato Sia la potion of strength Sia la cosa di La Lender pearl Guarda che Se li buttiamo giù Tutti Sono messi male Guarda guarda L'ho buttato giù No non è vero No l'ender pearl Cosa Costa 13 Non la faccio mai Nella video Dai oh Cazzo Guarda che sono messi male Rasha 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 Vai 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 Eh no Il problema sai qual è È che È che C'è quello là che frecce Bisogna eliminarlo Però non ha l'armatura Si è corazzato Aspettate Mi vado a fare le potioni Mi sa che ci serve un ender pearl Io c'ho tre di oro Bisogna fare un ender pearl Assolutamente Eliminare l'arciere E andare a rushare De vinta Perché sono dei ritardati Sti qua Ok Ok Deciso Dai vai 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 Rush Rush Dai vai vai Sì 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 Uh Sono rimasto in vivo Cazzo Come l'ho fatto? Eh Peppe Sì Spacca la sandstone Eh lo so però Ho pochi cuori Non è che Vai vai Fa niente Non posso non farti niente adesso Perché non hanno Modo per Le armi Le stack Hanno messo Cerca di rimanere in vita Cerca di rimanere in vita Che arriviamo noi Dai Eh facciamoci una spada veloci E andiamo Andiamo a supportarlo A comandarlo Dai a che Finisce la pozione Arrivo Arrivo io Arrivo io Aldo dove sei? C'è Giale Ok ok No 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 Non mi fate kill Arrivo io Anche se sono messo Piuttosto male Però Meno di niente Dai Arrivo Ok Roto il letto Buono abbiamo vinto Ok Vengo anch'io Se vi serviamo Perfetto Boom Boom baby Dove è l'altro? Ok Dove è l'altro? No fermi Ah ok Abbiamo vinto Yay GG Ok Buona partita E ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti